Siamo con l'architetto Lancerin, sempre all'interno del seminario del Consiglio dei Ragazzi ad Expo Scuola. Riguardo le esperienze del Parco Colli e il coinvolgimento dei ragazzi all'interno della cittadinanza, cosa ci può dire a seguito delle sue esperienze, di quello che sono state le sue attività? Il progetto Consiglio dei Ragazzi per il Parco volutamente non segue le indicazioni degli adulti. Parte da un rapporto molto stretto tra i bambini, i ragazzi e la propria classe, per cui cercano di stabilire insieme come creare il rapporto tra chi è portavoce, come viene eletto portavoce, e parte dall'esperienza dei bambini. I bambini partono dalla loro esperienza di ambiente, di paesaggio, un ambiente molto bello che è quello del Parco Colli, e da quali regole si possono cambiare, quali comportamenti quotidiani si possono cambiare e poi man mano divulgare alla famiglia e alla comunità per migliorare l'ambiente, perché l'ambiente è centrale in questo progetto, come è centrale anche la democrazia. I bambini che età hanno e qual è la loro reazione quando si sentono così coinvolti verso determinate scelte o determinate domande? I bambini sono dalla terza classe delle scuole primarie alla terza classe delle scuole secondarie di primo grado e la loro reazione è veramente di grande serietà, cioè loro sono belli, giocano, sono coinvolti, hanno molto piacere di conoscere l'ambiente e anche di conoscere altri ragazzi, ma poi quando si mettono a tavolo veramente sono seri, prendono seriamente la cosa, non hanno grandissimi pretese, però danno consigli anche molto pertinenti e interessanti che il Parco cercherà di accogliere e a cui il Parco, speriamo, risponda quanto prima. Quindi è vero che il senso di comunità e di democrazia inizia già da piccoli, insomma, visto la sua esperienza? Sì, io in questa esperienza ho visto lavorare i ragazzi delle primarie, ma in altre esperienze ho lavorato con i bambini anche delle scuole materne e assicuro che veramente per loro è innato lavorare a partire dalla propria esperienza, cercare di capire come cambiare il proprio mondo e fare delle proposte. Se poi questo diventa una piccola realizzazione concreta, cioè la realizzazione concreta è quello che dà il segno che la democrazia può servire davvero, per cui lascia un segno. Bene, la ringraziamo della sua attenzione e della sua disponibilità. Buon lavoro.